Siamo nella Clean Room, che come dice il nome è un laboratorio estremamente pulito, più di una camera operatoria. In questa Clean Room si producono i rivelatori utilizzati negli esperimenti di fisica fondamentale. Si comincia da questa fetta di silicio, un disco di 15 cm di diametro e mezzo millimetro di spessore. Dalla fetta grezza i ricercatori otterranno un microdispositivo, alcuni capaci anche di rivelare luce a bassissima intensità, fino a poter vedere ogni singolo fotone, chiamato fotomoltiplicatore. Alcuni dei nostri rivelatori si trovano ora nell'acceleratore di particelle del CERN di Ginevra, altri sono in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale.